Allora Capitano, vi abboggiamo un po' il nastro, le emozioni a tornare in campo dopo sette mesi? Sì, una grandissima emozione dopo tutto quello che ho vissuto, grande emozione da parte dei miei tifosi, con tanto amore, tanto affetto, il nostro Presidente che era sugli spalti, la mia famiglia, tutti quelli che mi sono stati vicini in questo momento, non ho mai dubitato di poter tornare e rendermi utile, e credo che in questi dieci minuti che il mister mi ha permesso mi sono sentito importante. La partita è stata un po' blanda, quando ti sei tolto la giacchetta e stavi per entrare in campo sembrava che l'Inter avessi segnato. Sì, è stata una partita difficile perché non l'abbiamo chiusa e nel momento che sono entrato Livorno stavo attaccando con continuazione, molto pericolosamente, e dopo Jutte ci ha dato questa tranquillità con il secondo gol che ci ha permesso la vittoria. Mazzari ha detto che sei bionico e che i giovani devono imparare da te. Ringrazio il mister, ripeto, perché mi ha permesso questi dieci minuti che per me erano molto importanti, però soprattutto per il lavoro che sta facendo insieme a noi. Siamo una squadra nuova, che ha tanta voglia di essere il protagonista, e credo che il mister sta facendo un ottimo lavoro. Non ti ha immaginato di smettere dopo Moranti? No, io credo che il nostro presidente rimarrà sempre. Magari adesso accanto altre persone, però la sua anima rimarrà questa grande famiglia. Il fatto che sei entrato a centrocampo può essere un'indicazione anche sul ruolo che potrei avere? Sì, ho parlato con il mister e questa può essere una possibilità, però sono sincero, anche credo che i miei compagni stanno facendo molto bene. Io adesso, da adesso un po' devo trovare la condizione migliore, e se sono titolare o in panchina o entrando come stasera, per me credo che basta così. La maglia della De Moratti? Eh? La maglia della De Moratti? Una delle maglie sicuramente andrà al presidente. Senti, viene. No, di quella di stasera. Sì, di sicuro. Senti, chissà il telefono quanti sms avrai ricevuto? Tantissimi. In particolare? Tantissimi. Stamattina le L'Oreali mi hanno mandato un sms, ancora non ho visto tutti, però si volete sapere uno di Londra e arrivato.